Musica Venerdì 2 dicembre ben ritrovati con la nostra informazione. Continuano le indagini dei carabinieri di Paternò sull'omicidio di ieri di una donna rumena di 43 anni assassinata con colpi di fucile sparati al toraggio nelle campagne di Contrada Rotondella in territorio di Belpasso. Vediamo. E' Giorgeta Pop Anguta, 43 anni, la donna rumena trovata morta all'interno del cassolato di campagna dove abitava in Contrada Rotondella, un lembo di territorio a confine tra i comuni di Paternò e Belpasso. La 43 anni è stata rinvenuta a cadaveri nel pomeriggio di ieri poco dopo le 16.30 dai suoi colleghi, i quali preoccupati dal fatto che la donna non si fosse presentata al lavoro e non avesse risposto a telefono, hanno deciso di verificare cosa le fosse successo trovandola dentro casa, priva di vita. Immobile che si trova dentro il comprensorio dell'azienda agricola dove lavora la donna ma in un luogo isolato. La 43 anni infatti era imbiegata di quest'ultima impresa e badava agli animali presenti in azienda. La donna è stata trovata all'interno della camera da letto con una profonda ferita a torace provocata dallo sparo di due colpi di fucile caricata a palline. Chi ha sparato ha portato via con sé l'arma del delitto. Per l'investigatore potrebbe trattarsi di un omicidio premeditato. Non è chiaro comunque se la donna avesse un appuntamento con la persona che l'ha ucciso o così come sono ingosso le verifiche per la presenza di eventuali segni di effrazione nella porta di ingresso del casolare dove la donna viveva. A indagare i carabinieri della compagnia di paterno e del reparto operativo del comando provinciale di Catani. Al momento si esclude il diritto maturato nell'ambito familiare. La vittima era separata ma l'ex marito, suo connazionale, non vive più in Sicilia. Da anni si è trasferito in Romania assieme alla figlia avuta con la vittima. A momento gli investigatori parlano infatti di omicidio senza un preciso movendio. A vaglio dei carabinieri le immagini di video sovveglianza piazzate all'ingresso del cancello principale da cui si accede per poi dirigersi verso l'inderno dove si trovano diversi fondi agricoli. La samba della donna è stata condotta all'obitorio dell'ospedale Canizzaro dove nelle prossime ore dovrebbe essere effettuata l'autopsia. Esplosi da ignoti colpi di fucile contro una segnaletica stradale di paterno. Il fatto è stato segnalato ai carabinieri che hanno già effettuato un sopralluogo. Una segnaletica stradale scambiata per un bestaglio su cui esercitasse con la terria stradale ricadente incontrata San Marco a paterno che si trasforma in un poligono di tiro. L'inguitante episodio si è registrato nei giorni scorsi nella città paternese. La segnaletica in oggetto che riporta la scritta benvenuti a paterno ridotta ad un colabrodi in quanto raggiunta da meno 7-8 colpi di fucile è quella piazzata nella rotatoria non distante dalla stazione di San Marco. Non è chiaro se i colpi di fucile siano stati esplosi solo in una circostanza oppure in più di un'occasione. Così come non è chiaro se a sparare sia stato un soggetto oppure più persone. Nei pressi della segnaletica utilizzata come bestaglio sono state trovate a terra e conteggiate a meno 7-8 cartucce. Un fatto davvero inquietante che lascia davvero perplessi. Ci si chiede com'è possibile che si vada in gira a sparare in strada senza che nessuno abbia visto o sentito qualcosa di anomalo. Informate per l'occasione i carabinieri della compagnia di paternò i quali hanno effettuato un sopralluogo nella zona per accertare eventuale responsabilità. Ancora una giornata di sciopero nazionale da parte dei vigili del fuoco per tenere alta l'attenzione sulle croniche carenze di personale e di mezzi da parte di cui soffrono i vigili del fuoco ma anche per le altre problematiche che attanagliano il corpo. Sittine da parte del sindacato USB questa mattina anche a Catania. Se andiamo a proposito Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale del sindacato. Se andiamo. Diciamo che ancora una volta l'Ischia si è messo in luce come i vigili del fuoco fanno un lavoro incommiabile. Un applauso va sicuramente ai colleghi e la vicinanza assoluta alla cittadinanza di Ischia che purtroppo ha vissuto una tragedia annunciata così come Ischia anche in altre parti del territorio italiano dove diciamo che ci vuole prevenzione e messa in sicurezza. A noi ci definiscono angeli ma anche noi con le ali purtroppo non possiamo pagarci le bollette. L'aumento dell'ultimo contratto purtroppo è stato totalmente spaziato via dagli aumenti e a causa anche della guerra che è stata una scusante per toglierci i soldi di tasca come a noi vigili del fuoco come a tutto il resto dei lavoratori. Oltre a questo chiediamo che vengano risolte le gradutorie con le assunzioni perché abbiamo una grossa criticità di organico e il nostro territorio è un territorio debole e i vigili del fuoco sono la colonna portante della Repubblica Italiana. Questo lo si dimostra quotidianamente. Domani a Paternò, vigilia della festa padronale in onore di Santa Barbara, alle 10 muoverà un corteo con le autorità civili e militari da piazza della regione Seno in piazza Santa Barbara per l'omaggio al monumento dei caduti di tutte le guerre. A seguire alle 11 sarà celebrata una messa nella chiesa di Santa Barbara presieduta da Don Corrado Pantò, cappellano della Marina Militare in servizio ad Augusta. A termine i vigili del fuoco della locale caserma omaggeranno la loro santa padrona con una corona di fiori che sarà collocata mediante un'autoscala sul simulacro di Santa Barbara posto sulla facciata esterna dell'omonima chiesa. Inserata poi alle 19, processione delle reliquie di Santa Barbara nel centro storico e tradizionale entrata dei cantanti in piazza Indipendenza. All'ASP di Catania ha attivato 13 mammografi tridimensionali in diversi poliambulatori e ospedale territorio. Vediamo. Sono stati tutti installati e già operativi i 13 mammografi tridimensionali presso i poliambulatori dell'ASP di Catania. Si tratta di apparecchi digitali che sostituiscono quelli analogici e con i quali si è completato l'aggiornamento dell'intero parco delle tecnologie mammografiche presenti sul territorio. Stiamo investendo in risorse umane e digitalizzazione per offrire ai cittadini servizi di prossimità sicuri e affidabili ha detto il manager dell'ASP di Catania, Maurizio Lanza. I risultati raggiunti sono soddisfacenti ma non ci accontentiamo rilanciando ancora gli investimenti per una sanità territoriale moderna e innovativa. I nuovi dispositivi sono attivi presso gli ospedali di Militello Val di Catania, Caltagirone e Paternò, nonché presso i poliambulatori 10 Reale, Bronde, Giarra, Pedara, San Giorgio Librino, Bezzini e al PTA San Luigi di Catania dove ne sono stati collocati ben 4. Questi 13 mammografi si vanno così ad aggiungere a quello già presente nell'ospedale di Biancavilla. L'acquisto di questi nuovi mammografi rappresenta un forte segnale di attenzione per tutte le donne residenti sul territorio, ha affermato Antonino Rapisad, direttore sanitario dell'ASP. Abbiamo potenziato i nostri servizi per garantire tempi ancora più celeri e alzare sempre di più gli standard di efficienza del percorso diagnostico. Rivolgo quindi, conclude Rapisad, l'invito a tutte le donne ad aderire con fiducia ai programmi di screening e non trascurare questa importante opportunità di prevenzione e cura. I nuovi mammografi sono tutti dotati di tomosindesi, tecnica mammografica che permette di acquisire immagini della mammella in tre dimensioni con eccellente qualità di immagine che permette maggiore accuratezza diagnostica, oltre che una notevole riduzione della dose radiogena erogata alla paziente. Visita questo pomeriggio della Civescovo di Catania Monsignor Luigi Renna a Biancavilla. Dapprima l'accoglienza da parte delle Clarisse del monastero di Santa Chiara, dove ha pregato in forma privata recitando solennemente i vespre. Successivamente Monsignor Renna si è regato in Chiesa Madre, dove ha tenuto il tezzo appuntamento degli incontri formativi rivolte alle confraternite cittadine e alle loro famiglie. A porgere i saluti è stato il prevosto parco della Chiesa Madre, assistente spirituale Donna Agrippino Salerno, Eddino Laudani, governatore della confraternita del Santissimo Rosario. Nel suo intervento la Civescova ha illustrato l'importanza della pietà popolare e il ruolo svolto dalle confraternite alle aluce di tre punti fondamentali, il culto, la formazione cristiana e la carità. Pulizia straordinaria di piazza annunziata a Biancavilla ad opera dell'amministrazione comunale su inbut e anche del consigliere comunale di maggioranza Antonio Bonanno. Oltre alla potatura degli alberi presente, la pulizia della piazza sono state messe a dimora diverse stelle di Natale e piantine verdi per abbellire l'aria che ospita anche il monumento ai caduti. Il consigliere comunale Antonio Bonanno, che è anche segretario del consiglio pastorale della chiesa parrocchiale annunziata, con una nota ringrazia l'amministrazione comunale per l'intervento fatto e coglie l'occasione per sensibilizzare la cittadinanza biancavillese ad avere cura del bene comune. Il presidente del consiglio comunale di Biancavilla, Martina Salva, ha convocato per martedì 6 dicembre alle ore 10.30 del consiglio comunale dei ragazzi. I 16 baby consiglieri si riuniranno nell'aula consigliare del comune per la trattazione dell'ordine del giorno che prevede dopo il giuramento e la convalida dei consiglieri eletti l'elezione del baby sindaco e del suo vice. Con quest'ultima notizia si chiude a questa edizione. A me non restato che salutarvi e darvi appuntamento. Alla prossima!